Grazie eccellenza, ma solo appunto per ribadire quanto già espresso precedentemente dal consigliere Zeppa rispetto appunto alla bontà di questo provvedimento che come è già stato anche illustrato ampiamente all'interno della relazione va di fatto ad equiparare quelle che sono i diritti diciamo legittimi della discendenza tra il padre e la madre appunto rispetto alla cittadinanza quindi anche in riferimento all'intervento della consigliere Bronzetti che mi ha appena preceduto che parla di interventi spot sul quale ecco in linea generale posso essere d'accordo il fatto di fare interventi spot sicuramente non creano mai nulla di come dire accuratamente approfondito ma in questo caso qui appunto si vanno semplicemente a modificare quelle che sono appunto delle come dire delle lacune o comunque delle distorsioni di una legge già esistente appunto si fosse parlato di rinunciare oppure si fosse parlato nello specifico della rinuncia alla cittadinanza potrei essere stata d'accordo ma ecco ribadisco in questo progetto di legge trattiamo un argomento in maniera diversa. Ecco mi permetterà mi permetto anzi una battuta in risposta all'intervento del consigliere di RF che se non è per il metodo una volta per il metodo una volta per i contenuti resta il fatto che tutto quello che proponiamo o comunque le segreterie il governo propone e non va mai bene io ritengo che in questo caso specifico visto che in questo caso specifico era il metodo se la nostra unica colpa sta nel metodo rispetto a un provvedimento dove è stato chiesto una procedura la dirigenza votata da tutti beh altro male non venga. Grazie mille.